guarda come esplodiamo la barca di ginari mori barca di ginari aspetta che dobbiamo fare questa acqua non si può ma che esplodo se aterrò il mare come si provo ma non ha senso monta bastardo ci stiamo lentamente stiamo lentamente ammarando oddio ho bagnato il motore dove andiamo? andiamo in una zona con un po' di gente tipo all'aeroporto lo sorvoliamo ci schiantiamo tipo kamikaze quindi state pronti a ci paracodottiamo si si a ejectarvi dov'è? quello lì? è lì vai sempre dritto dove cerco l'affare azzurro ok c'è un deficiente con un aereo a che cazzo di aereo ha preso sto sto abbattito abbattito gli sto sparando avanti sopra mi scimbo ma minchè è proissimo sta atterrando sull'autostrada avete visto vabbè è passato pure sotto il ponte quello davanti è pro cazzo quello è pro da ferro mica come noi parla per te si ferma è calmato bello perché hai le munizioni infinite su stai stiamo pronti a paracadutare oh guarda c'è un altro aereo ma minchè è pieno di aerei presto guarda un po' quello se schiavo quello non è pro quello no ok io direi di schiantarci ci paracadutiamo vai vai io voglio un aereo uno via ho sentito tipo qualcuno che urlava non so chi oddio mi stanno sparando di già madonna che casino apro il paracaduto anche io boom ok oddio c'è gente che mi passa accanto ah no ti stavo sparando scusate bastardo ginaglio ma c'è gente che ci vuole investire ovunque tra l'altro qua gli fps scendono oddio danno mi spieghi oddio di poco io vi ho perso c'è un casino di gente io ho ammazzato uno a me sembra di essere su desi c'è un aereo che mi è passato sopra ma nemmeno desi che casino guarda sembra tipo naval combat per aerospatia cristo d guarda quello madonna si qua si è abbastanza brutto ma tu hai un aereo oddio mi stanno sparando mi stanno sparando un pezzo di merda aia pezzo di merda lasciami io vado a prendere l'aereo cazzo c'è troppa gente qua ci muoio mi sa ah non ho più il mitragliatore fuggi lioness datemi l'aereo ho preso un pullman dei pompieri io sto su un aereo bai mo investo la gente porca puttana investo la gente madonna andate bene a fanculo andate pezzi di merda una un cip e one chip mo travolgo il cip e one boooom no il chip vuole fatto volare eh c'era un tizio eh ma mi ci sono schiantato io c'è un tizio sul tettugio c'è un tizio sul tettugio mologratto via dal tettugio ha grattato veramente oddio c'è un tizio con un aereo bellissimo con l'aereo guarda quanta gente madonna sto gioco è bellissimo io quando andrà in versione finale secondo me sarà spettacolare e quest'altro cretino questo c'è un bel aereo mi ci schianto mi ci schianto no è ancora vivo ah questo è il cimari ho un altro aereo questo lo voglio io lo voglio io lo voglio io questo no no è mio è mio è mio non sparatemi pezzi di merda no 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 cazzo non spara oddio mi sono ho fatto un testa coda con l'aereo fermi cazzo di me oh oh no 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 non decollare non decollare decolla 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 mi sono schiantato devo uscire vaffanculo oh oh ginari ti ho pregato la chisla va a due aereo sono spammati uno sull'altro yeeeh qua sta uno con una vespa ma che è davvero no bastardo mi ha fregato scendi dal l'aereo pezzo di me oddio mi ammazzano sono morto porca puttana minchia ma c'è troppa gente guarda quanti puntini ci sono sulla minimappa oddio mi hanno cercato con l'aereo morto pure io eh vabbè mo vediamo vabbè no io sono spawnato eeeh eeehm città panau city quartiere dei parchi voi altri non sta di nuovo all'aeroporto anche a panau city alla fine è il posto migliore perchè c'è tanta gente ma è grossa quindi la gente è un po' divisa all'aeroporto c'è troppo casino allora fanculo è anche crashato il gioco no Danny rientra ho trovato un carro armato mo siamo fuori ho trovato un carro armato grosso lo stonewall questo è più grosso di quello di prima ma non spara perchè non spunti io sì che spara spara col cannone dove siete voi quartiere dei parchi dove stefano ehm sotto i palazzoni sotto i palazzoni un po' un problema allora no ma non preoccuparti lo trovo un mezzo ma in due più bello dove stai vieni vieni sotto il ponte arrivo al quartiere dei parchi io io sono sotto il ponte ok ok sono verde no se non mi sparano se mi sparano gli faccio il culo perchè c'ho madonna sto sto me oh mi stanno sparando ok ho cambiato idea col tasto destro col tasto destro puoi sparare anche io eh lo so però se mi spara un elicottero è un po' un problema no adesso non mi rientro neanche più Danny bene no Danny sei sempre il solito Ginari eh fai altri tentativi dove io sono solo però qua ho paura Kiros dove cado Kiros l'amore è una lunga storia su un punto il tutto ma sotto io so c'è un tizio c'è tanti tizi sopra il ponte non vado a 4 km amicchia finisce che non posso entrare perchè l'hanno banna è fatto tipo tra i città chi è quello l'altro no 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 oh merda mi è salito un tizio sopra il coso mi sta facendo esplodere è un bastardo come faccio a farlo smettere aiuto aiuto mi vuole far no è un bastardo smettila porca puttana vabbè muori sa che non rientro no ma ho ucciso cristo danny dove sei stefano sei sul davanti o sul di dietro davanti vai davanti vai davanti vai davanti nooo sperando che non sei morto però allora mo metal mavio secondo me è impossibile da trovare noi siamo nel quartiere dei parti eh si ok avevate detto sul ponte sotto il ponte eh siamo lì siamo più o meno attività ostile nel settore mo io non leggo neanche scarre di bistrini che cazzo vabbè t'acqua spamma di missili così almeno eh di missili li sento sinceramente sta lì sulla rampa lì lo vedo dove sta la rampa ah eccolo ok aspettate che c'è un conflitto a fuoco aspetta eh andiamo ecco la minchia come sto furgoncino è bellissimo eh ah metal mavio dovrebbe essere da queste parti dall'altro lato no come dall'altro lato sei dall'altro lato metal mavio so quanto è che porta un quartiere finanziario quindi di qua ok andiamo andiamo guarda 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 che cazzo stai facendo tu lì sopra sembra che stai facendo wind segnalati nel nostro settore a tutte le metà intercettare se c'è qualcuno e stai ti stai cercando di 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 riprodurre con la macchina con la macchina ecco e ecco dove mi sto in testa oh eccolo spara spara girati e sparagli e metal ma è lì e il cretino con l'elicottero guarda guarda come è figata ma è così ammazzato sparagli spara a metal mavio che figata un inseguimento elicottero tipo tipo aspetta oddio in chiodo in chiodo è pro metal mavio sarai tu che sei scarso come una merda non sarà mica il problema Cristo Cristo ma quanta vita hai il tuo elicottero metal mavio oddio siamo senza vita c'hai missilato sei una merda porca puttana metal mavio porca puttana metal mavio metal mavio ha ammazzato pure degli altri tizi qua come faccio aiuto aiuto oddio aiuto metal mavio muori metal mavio muori metal mavio muori metal mavio non posso salire nel veicolo dovrei atterrare a terra è molto urgente mi sento in una posizione precaria sto cercando di headshotarti ma non fa stefano sta passata prima ok vai sali devi venire a prendere no oh ma che cosa c'è lì per terra oh è un cadavere ma c'è scritto j1000 ah è il nome ecco aspetta no porca puttana metal mavio madonna metal mavio metal mavio anche io andiamo ah non ha tanta vita per elicottero è tanto amore a tavola bene ma stefano è morto tutto questo e quindi come come il mio buonciuto dunque si chiamava già perché tu eri fuori di normale allora metal maio facciamo un'altra missione lucida tipo magari bello tutta la città illuminata guarda che figata sembra la fiora eh già nessuno sa che cazzo è la fiora sappiate che è un borgo perduto nel lazio si oddio stiamo per schiantare vero? no ok ho ucciso uno ecco bravo come rovinarsi la vita hai ucciso uno ma non ci sta nessuno che passa sotto di noi strano però eh vira vira oddio fosse stato dei si saremmo morti lo sai no si di fronte a noi ci sta uno stronzo c'è uno stronzo metal maio sul ponte di là lo vedi vedo vedo spazio madonna spara è più sotto è spamma 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 anche i misti anche la mitraglia spamma tutto spamma tutto ok basta è rotto i coglioni guarda come si appeso lo sfigato va bene appeso va che schifo io vado di nave eh come faccio a gettare mi aspetta e comina ecco sta piovendo per caso qua fuori devo riuscire a prendere la nave oh ok mi sono che male sono sono atterrato di pancia nella nel bar nella nave si so siamo capiti bella la mia nave va tipo a uno all'ora però è molto bella ci stanno pure gli italiani sul server si beh pieno di gente che hanno detto qualche cazzata ignobile su nella chat la vola di tu madre ecco ok ovvio andiamo scarred beast vieni vieni mi vedi non mi spara non mi spara ti faccio da scorta e da supporto morale andiamo andiamo io ho intenzione di arenarmi qui eh e di cambiare mezzo aspetta anzi giù un po no non è esplosa prendo questa macchina guarda bella questa c'è il mitragliatrice no me non esplosa bella oh metal ma guarda esplosa la barca no non esplosa nemmeno vieni andiamo metal mafio andiamo verso destra qua eh io ho anche un mitragliatrice c'è presente il palazzo schianto tuo ti sparo mi ci sono schiantato ah ok qui sei morto da solo ah no credo che lo sta a posto ok vai un po' avanti muori metal mafio 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 no ah ora ti potrei no basta è così allora me ne vado via ciao metal mafio no ah si ah mi è venuto a freno comunque sto fatto che uno ti si può mettere sopra e tu non puoi far nulla per buttarlo giù è una merda eh ma come non può farlo e cosa fai gli spari vabbè così è vero posso volere il settore a tutte le unità colegere nell'area ah 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 beh qualcosa potevo fare in effetti ma solo perchè questa macchina aveva i cosi razzi mi credete oddio quanto esplode il mondo qua bastardo ah c'è un bastardo mi sta sparando alla stessa macchina mia muori muori ejectati muori pure tu bastardo muo oddio mi stanno ammazzando mi stanno ammazzando ho fatto la stessa cazzata di metal mafio muori oh ok sono morto ah mannaggia non mi è uscito scritto lo proprio legge sono stato explosively fragmented in ogni caso credo che abbiamo registrato abbastanza quindi per me è tutto vi auguro una buona giornata se la giornata di oggi dovesse essere finita mentre guardavate questo video guardate quello di domani lion danny non so se c'è ancora si metal mavio è stato per dire sentenza invece è Stefano out non 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 non